Salve a tutti ragazzi, sono sempre io e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati con la Road to Division 1 in co-op, in co-op, con il buon Melchiorre. Sei tu Melchiorre? Ah già è vero. Saluta Xander! Salve. L'episodio precedente vi ricordo che è sul canale di Xander, quindi andate sul suo canale, non rompete i coglioni. Sam. Oh zoppo! Questo non è zoppo perché lo... Parca d'umana. Parca droio! Allora, a mezzo questi ci fanno il culo, detto proprio tecnicamente parlando. Dici? Sì. Perché? Perché sì. Perché mi è bastato guardare come se andava l'ham e le gialle. Eh, mamma lì ho sbagliato con Alaba all'inizio, subito. Carco demonio. Bravissimo, Fernando. Bravo. Ah ah ah, Fernando! Bello questo sgambetto da vietro. Fatto appostissima. Tira! Ah, porca puppa! Ma l'ha tolto lì, madonna, mi stavo caccando ad osso anche, sinceramente. Oddio! Però mi pezzica il naso che me lo vorrei staccare, porca puttana. Prova. Vabbè. Oddio! Sì, così. Pfff! Madonna, Lele. Lele noie. Mamma mia, la velocità di Mule, guardalo, guardalo. Fai battere, fai battere, invece di mettere schiavani. Perché mi volessi dispera che è nostra? Boh. Xander! Eh vabbè, rigiovo. No. Sono scioccato. È infermabile. Eh, è fatti. Io dico che non è finita. Te? Eh no, nemmeno direi matti 3. Ma come si paga? Ma cazzo, dai, Xander! C'è demonio. Guarda, guarda che è la Lewandowski, eh. Lo stugava. Bravissimo. Dai, che si riparte. Oddio, che palla! Oddio, Xander. Devi farmelo, devi farlo. Mette un cazzo. Sì! Dai, Xander! Dai, Xander! Lewandowski, dai! È gran gol. Poi si gira verso la Mecca. Na Mecca. Verso la Mecca. Verso la Mecca. Bravissimo, giusti. Bellissimo. Il film perfetto. È andato via. Ma c'è sul trallo. No, no, ma dai! A centrocappo, cazzo. Perché rompere un menisco. Mamma mia, è fallo. Vabbè, poi vabbè. D'ambio via. Fuori in gioco, te? No, non è fuori in gioco. Ah, d'addio, mondo. Succa, suca, 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 cazzo! Succa, cazzo! Un punto, ci serve, Xander! Un punto! Vai, chiudilo, chiudilo, chiudilo. Vedi perché non voglio più noia? Perché non può uscire così. Rotti in culi. E' vero che sta sul cazzo è che i partieri se gioco sugli angoli fanno queste cose da soli. C'è una cosa che proprio non tollero. Cioè, a parte che non devo uscire così, anche se lo chiamo io fuori. Ma se non lo chiamo deve starsene in porta. Finisce qui, 4-1, 4-1. Beh, vabbè, ci può anche stare, dai. Eccoci qua, signore. Abbiamo deciso di cambiare squadra, vedete? Così ci sono parete un po' più interessanti. Besiktas, Bayer, Leverkusen. Noi siamo il Bayer, Leverkusen, ovviamente. Eccolo, addio. Vai con Karim Bellarabi. Oddio, c'hai messo? Così, così, così. Erna! Qualcuno ti rip... Porco zio, porco zio. Fui Bellarabi. Guardalo! Bellarabi! Per! Per! Facciamo gol! Kayanoglu, che in italiano significa... De Cristo. Ancora, Kayanoglu! E stavolta serve mezzo per far far gol. Questo è un fenomeno. Kayanoglu! Pamp! Oh, quanto è bella quella fascetta nel braccio. Sì. Ma ce l'ha veramente sempre? Boh. Che progetto del cazzo, ce l'ha sempre. So come a little corsa. Bella. Bravo! Oddio. Sander. Che sta succedendo? Beh, ma come già ho state per questo? Mamma mia, come già ho state per questo? Mamma mia, beviata. Bam. Guarda che roba. Oddio, Kayan. Guarda il Fazzu 9, guarda il Fazzu 9. Mettere a mezzo! Guarda per il Fazzu 9. Succatemelo tutto! Di forza! Chi la molla più sta squadra? Chi la molla più? Quando perdiamo. Che azione, guarda che sovrapposizione. Ormai non sbagliava, l'ha preso di stico. L'ha preso malissimo. E' Danese. Oddio, bella robic! No! No! Che squadra è questa? No, mi rispettò anche questo controller. Fermi tutti. Alexander, ma dove ce l'è la corda del controller? Oh, ma la corda che è? Il cappio! Beh, se va male nel caso, vero? Che brutta scena. Oddio, cosa ho fatto? Madonna, ancora veramente come... Stavo cercando la corda, di pazienza. Oddio, fallo così, a caso. Gioco la corda, bravo, così, via. Via, così. Vabbè, 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 chiudi il mezzo. Ecco, così, rigore. Beh? Ma porco schifo, lo sbalvo. Quale motivo? Eh, tira centrale, Antonello. Oddio! Mamma mia! Ah, non è entrata! Non è entrata, Xander! Mamma mia, non è entrata. Credo fosse entrata. Paradona di Jared. Ma come verrà? Via. Oh, we need somebody to lean on. Cosa fa sto qui? Se l'è auto passata. Passa la carrella, no, guarda. Mamma mia che squadra. Sì. Eccolo là. È parlato Kevin. Ciao. Sì, ciao, cosa? Ma zio, ma Rudolfo ma corre così tanto. Ma chi è, Rudolfo? Ma qual è? Ma come hai fatto a spingere questo non gioco? Ma uno Skype. Oddio, che... No, Xander! No, Xander. Quanto adoro sto giocatore, mamma mia. Cosa non è? Xander che gol ho fatto. Quanto è forte. 3-0, signori, per il Bayern Leverkusen. Ragequit, non lo dici? È tempo di gambi. No, ma anche Ragequit, non lo chissà, vabbè. Grande, signori, è Ragequitato. Non vedo niente. Comunque, ragazzi, il video finisce qui. Nel prossimo video speriamo di portarci a casa il titolo. Abbiamo rimasto due partite, ma vi ricordo che dovete andare per vederlo. Sul canale di XanderGamer90, lascerò il link in descrizione. Spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Lasciate un mi piace, un commento così. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.